Rebegiani si parla di questa importante manifestazione che si terrà a Montesilvano, si parla di scacchi, voi rappresentate il meglio di questa disciplina sportiva in Abruzzo? Certo, noi abbiamo un'attività importante sia a livello scolastico da tanti anni che dà un impatto formativo ed educativo enorme ai nostri ragazzi e anche a livello di vertice perché siamo stati i campioni d'Italia tante volte, lo scorso anno doppio titolo maschile che femminile, proprio ieri abbiamo invece perso i titoli, entrambi i titoli a Gallipoli in questa finale nazionale, abbiamo comunque riportato un secondo posto nel maschile e un terzo nel femminile e adesso siamo già coinvolti in questa organizzazione insieme all'Accademia Internazionale di Scacchi, molto importante perché avremo dal 4 al 7 maggio qui a Montesilvano col coinvolgimento di tutta l'amministrazione comunale, degli operatori alberghieri, un importantissimo evento. Questa è la fase finale appunto del campionato nazionale delle scuole con numeri importanti perché ci sono tutte le regioni d'Italia, 1900 ragazze che si sfideranno contemporaneamente al Paladin Martin qui di Montesilvano, quindi sarà sicuramente uno spettacolo sia sportivo ma anche visivo proprio vedere tutte queste persone giocare contemporaneamente all'evento. Questa manifestazione serve anche per smentire un luogo comune che gli scacchi non siano una disciplina per giovanissimi, invece non è così? No, assolutamente, lo stereotipo diciamo dello scacchista in questi anni è completamente cambiato, oggi i frequentatori dei tornei di scacchi per il 70% sono giovanissimi proprio, gli scacchi appunto è una disciplina a tutti gli effetti del CONI, quindi del movimento sportivo italiano, oggi ha una grandissima partecipazione di giovani a testimonianza di questo e proprio questo evento. Grazie a tutti.